Come ti chiami? Daniele. Come stai? Come ti chiami? Che ora è? Come stai? Come ti chiami? Daniele. Che ora è? 5.30. Come stai? Buono. Rilevamento notte, vaffanculo. Siamo qua con i muta, anche se non so che significa, meal for breakfast, e lui. E stasera suoneremo in questo posto. Ciao Tim, che dici? Non lo so, tante cose. Ottimo. Ciccola! Conci Airlines. Ok. Bella, noi siamo i leftovers. E stasera suoneremo al posto e ci faremo tante bispe. Al posto? Quante tante cose. Siamo tutti. Ciccola! Qui per lucidare la caffetta. E per scappellare quella di Guanta. E scusatemi quindi rimane. Oh! Oh Dio! Oh Dio! Oh Dio! Oh Dio! Bella! Oh Dio! 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 Ciao a tutti, sono Daniele del FTOCALS e se non avete ben capito cosa è successo la polizia ci ha tirato un lato il progetto hanno praticamente chiuso il luogo dove dovevamo suonare, che era una bella e appunto ci hanno confrontato fuori appena prima del D2C però non è finito niente, la festa continua ragazzi, la festa continua, si fa da un'altra parte Stronzi, la polizia non ci ferma Oh ragazzi, dopo un garage stiamo suonando una cantina che portava proprio il peggio del peggio Second test run, the same direction I don't want to win, my dance starts in indie crown starts Seguramente mi ch conference la canna questa I don't stand up't like a triple We will pop up We will check for the command Adiós Chisss Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.